Musica 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 E賤, che è così giù, che non mai se sta E' un tempo, va solo per una botella Non sicura che di passerà Non vada a chiamare, non c'è Non vada a chiamare Non vada a pensare, non te la 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 Se vanno i giorni, non vanno a corrì Posso trattare, ma la giurata è da qualche Una saga di lì, che si dito tutto, ma io non la voglio più Ma perché vanno così, l'amore, per venerci a farci Sui, sui, tu la tua gatti, è finito tutto, ma io non la voglio più Ma perché vanno così, l'amore, per venerci a farci Sui, 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 alcoio, sui, 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 ui, sui, 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 sui Vieni qua! Ok gentilmente se vi accendete il mio microfono Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo! Ma quello è lui che mi fa emozionare anche il microfono Volevo solo dire una cosa, un attimo di silenzio e poi urliarmi Volevo un applauso da parte vostra Prima Pino, applausi vostro Grazie Poi a una persona che voglio dire non so quanti anni di esperienza ha Ci voglio dire, dire i tanti, forse troppo A Consuelo gli facciamo un bello applauso forte Grazie E poi se mi permetti perché io mi sento anche io figlio di questa bella agenzia Che è la Papere Music Facciamo un applauso a Carlo Applauso per la Papere Music E alle persone che hanno lavorato per questo grande evento che ci sta questa sera Ma un applauso lo faccio più forte a una persona che io stimo e voglio bene che è Luigi Mone che è il figlio di Carmine che io stimo Grazie E ti devo cantare anche una canzone Ma voglio dire una cosa Questa canzone eh Devo dire ma ci ha rubato i tre minuti Questa canzone Questa canzone Un po' di tempo fa se non sono anche a cantare fuori Poi di settimane fa Poi Napoli Questa canzone Ma questa canzone sta andando veramente alla grande Io non posso che essere contento Perché Pino Eh Di grandezze Poi di età posso dire che è mio fratello più piccolo E ne sono veramente contento perché stimola la sua famiglia Che è una famiglia che io voglio veramente bene E poi perché ci ha amagrisciuto e quindi è giusto che poi questa cosa è nata insieme E sta camminando insieme Io sono contento Sì Applausi per Anthony Io te l'ho andato